Dove essere una giornata importante per l'inchiesta sull'omicidio di Dinadori, assassinata la sera del 26 marzo 2008 nel garage di casa. Stamattina era in programma a Cagliari, nel calcio di Buon Cammino, l'interrogatorio di garanzia di Francesco Rocca, marito della donna, su cui pesa la terribile accusa di essere il mandante dell'omicidio. Il dentista, invece, sul consiglio dei suoi legali, che hanno bisogno di tempo per esaminare tutte le carte, si è avvalso dalla facoltà di non rispondere, davanti alle sollicitazioni del GIP e dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia, che hanno in carico la delicata inchiesta. Francesco Rocca, che attraverso i suoi legali aveva già proclamato la sua totale stranità e fatti, avrebbe dovuto iniziare a chiarire la natura dei suoi rapporti con l'altro soggetto coinvolto nell'inchiesta, Pier Paolo Contu, il giovane operaio di Gavoia accusato di essere l'esecutore materiale del delitto in concorso con un altro individuo, al momento rimasto senza volto. Invece, Francesco Rocca ha deciso di fare scena muta. Nei successivi interrogatori, a carico dei PM, dovrà respingere l'accusa di oxoricidio e spiegare la sua condotta e il senso degli SMS inviati alla moglie e all'amante da cui si evince che i rapporti all'interno della coppia non erano idilliaci. Invece ha scelto la strada del silenzio, così come ha fatto ieri Pier Paolo Contu, che di fronte ai magistrati del Tribunale dei Minori di Sassari, che hanno in carico l'inchiesta perché il giovane all'epoca dei fatti era minorenne, ha fatto scena muta, valendosi dalla facoltà di non rispondere. Una strategia difensiva comune che al momento non contribuisce a chiarire la posizione di Rocca e Contu. Per ora rimane sul campo la verità giudiziaria indicata dagli inquirenti che hanno individuato in Francesco Rocca il mandante dell'omicidio di Dinadore e in Pier Paolo Contu l'esecutore materiale.